Sanità, l'avanzo delle quote a sostegno dell'RSA, approvata la risoluzione proposta dalla Commissione competente a sostegno delle residenze sanitarie assistite. Caro Bollette, aiuti alle aree montane, sì del Consiglio per nuovi contributi a famiglie, imprese e denti locali. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Monitor Consiglio. Garantire la continuità del servizio dell'RSA impegnando le quote sanitarie erogate dalla Regione che risulteranno non spese al 31 dicembre prossimo. È quanto chiede la proposta di risoluzione di iniziativa della Commissione Sanità guidata da Enrico Sostegni e approvata dal Consiglio regionale con voto unanime. Nell'atto di indirizzo si impegna la Giunta a ripensare il modello organizzativo dell'RSA. Le interviste ad iniziare proprio dal consigliere Sostegni che è anche presidente della Commissione Sanità. Dopo l'audizione di tutti i rappresentanti del mondo dell'RSA e del mondo della cooperazione è uscita un elemento chiaro e cioè che una pluralità di fattori, l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi di energia, l'aumento dei costi legati alla gestione Covid hanno generato una situazione di forte sofferenza per l'RSA che ha bisogno, come sta facendo l'assessorato, di una serie di analisi anche di cambi nell'organizzazione e nella normativa, ma c'è bisogno anche di un aiuto economico perché oggettivamente se no tante RSA non riescono più a sostenere la gestione del servizio. Sono un elemento essenziale dei servizi per la non autosufficienza, di integrazione con i servizi poi sanitari e quindi per noi chiediamo alla Giunta di prevedere un contributo per aiutare e garantire la sostenibilità del sistema dell'RSA in Toscana. Bisognerebbe fare una cosa semplicissima, prendere atto che la Regione Toscana da 15 anni a questa parte non rivede la quota sanitaria, mi risulta che da 15 anni a questa parte le spese per il mantenimento di un posto letto in RSA siano un po' differenti, negli ultimi 15 anni forse le spese sono un attimino aumentate e la Regione Toscana non rivede la quota sanitaria. Il documento che è uscito dalla terza commissione è un documento ben fatto, è un documento che chiede giustamente, è il nuovo esercizio stilistico del Partito Democratico, su qualunque punto chiedere soldi al Governo, quindi chiede giustamente un impegno del Governo per prevedere un aiuto anche per sostentare i costi energetici dell'RSA, il Governo ha previsto, di questo se ne sono dimenticati, non l'hanno scritto nel documento, gli chiederemo di inserirlo noi, che il Governo ha destinato 21 miliardi su 30 della manovra ai costi energetici, non ha inserito l'RSA nella lista dei soggetti che ne possono beneficiare, quindi è giusto chiedere che vengano inseriti, come è giusto però chiedere anche che la Regione Toscana rivede la quota sanitaria, perché è troppo facile non far niente per 15 anni, aspettare che l'RSA giustamente, sottolineo giustamente, ti vengano sotto il palazzo della Regione a dirti che se continuiamo così sono destinati a morire, quando invece un anno fa, un anno e mezzo fa, eravamo tutti sperticati in grandi elogi, ringraziamenti alla grande rete dell'RSA Toscana che hanno fronteggiato in prima linea la battaglia per il Covid, poi quando chiedono aiuto dire ok, chiederemo soldi al Governo, no, la Toscana riveda la quota sanitaria che è ferma da 15 anni, poi tutti insieme giustamente chiederemo al Governo di impegnarsi anche per sostenere, per aiutare l'RSA a fare fronte al caro energia. Facciamo chiarezza, nel senso che la Giunta aveva predisposto più di 200 milioni per l'RSA, alla fine dell'anno ci sarà un disavanzo, nel senso un positivo di 27 milioni, 30 milioni all'incirca e questo è ciò che le risidenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto purtroppo soffrire in questi anni. Da questo siamo ripartiti, mi fa piacere che la Commissione abbia recepito i miei messaggi che ormai durano da più di 12 mesi per quello che riguardava le difficoltà delle residenze per anziani che hanno fatto da Covid, hanno fatto da centro di accoglienza proprio per gli anziani che avrebbero se no intasato il pronto soccorso nel periodo Covid e comunque la necessità di rivedere le quote sanitarie o addirittura percepire quello che era stato un documento del 2010 in riferimento all'Istat. Questo è alle base di tutto. Dopodiché, certo, si cercherà e ci auguriamo che il Governo possa dare e stanziare più fondi proprio perché questa è comunque una nazione che invecchia sempre di più, ha sempre più persone anziane che hanno la necessità di essere curate e di avere delle residenze adatte proprio a quelle che sono le esigenze più gravi, meno gravi, ma anche le persone che si rimangono poi dotate da sole. Parlare oggi di denaro che può avanzare alla Regione è sicuramente rischioso perché in realtà i problemi che si trascinano la sanità e gli affari sociali sono molti e la coperta è corta. Certamente le RSA rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente e sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno delle RSA anche quando non avevano nessun'altra scelta. Quindi la Regione deve intervenire, deve intervenire organizzativamente innanzitutto perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in gran parte, in buona parte, è transitato dalle RSA con i concorsi alla sanità delle ASL e quindi le RSA si sono trovate di fronte anche a questo problema. Insomma la Regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non solo sono di carattere economico ma anche di carattere organizzativo. Noi siamo stati come Italia Viva i primi a depostare un atto a sostegno delle RSA i primi ad ascoltarli, a ricevere le loro istanze bene che la Commissione abbia raccolto anche le nostre istanze chiediamo di fare di più, per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo ma chiediamo di fare di più anche in termini economici una risoluzione di buonsenso che noi sosteniamo in Consiglio regionale deve essere accompagnata da delle risorse importanti non compete a me dire quanto, 20, 30 o 40 milioni sarebbe semplice oggi dire quanto è evidente che il prossimo bilancio non può non tener conto di questa che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione ma non solo, di costi crescenti che le strutture hanno e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico. Cambiamo argomento, il Consiglio regionale ha approvato una proposta di risoluzione presentata dalla Commissione Aree Interne che chiede misure di contenimento del caro energia per famiglie, imprese ed enti locali con particolare riferimento alle aree interne e montane l'atto è stato illustrato dal Presidente della Commissione competente Marco Nicolai L'arrivo delle temperature invernali chiaramente pone una difficoltà nella difficoltà in questo momento di crisi energetica, quello dei territori montani dove chiaramente le spese per i consumi energetici saranno molto più elevate per gli enti locali, per le famiglie e per le imprese e quindi rispetto a questo noi chiediamo innanzitutto al Governo di intervenire rispetto ad esempio ai costi dell'energia dei comuni differenziando in base alle fasce altimetriche allo stesso tempo un'altra questione che ci è stata posta è che la tassazione sugli extra profitti delle imprese energetiche sacrosanta però è stata applicata anche a 1200 comuni italiani per quanto riguarda gli impianti per energia rinnovabile ma i comuni non sono aziende private ma sono enti pubblici e utilizzano questa energia anche per sostenere le proprie attività più in generale la nostra mozione chiede al Governo un impegno straordinario per quanto riguarda più in generale il tema del sostegno al comparto montano e neve di fronte ai costi energetici che saranno supplementari nella prossima fase è una questione questa rilevante noi abbiamo comuni in Toscana che stanno pensando o hanno già attuato la riduzione dell'illuminazione pubblica di fronte a tutto questo è impensabile che le regioni abbiano in Italia la possibilità di sostenere efficacemente tutti i comuni rispetto a queste problematiche e se questo vale da tutte parti né in montagna vale ancora di più Cambiamo ancora argomento il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la proposta di risoluzione sull'esito della conferenza delle regioni periferiche marittime e sul ruolo della Toscana e delle regioni per uno sviluppo equilibrato del territorio europeo nell'occasione il Presidente della Toscana Eugenio Gianni è stato rieletto come Vice Presidente della conferenza con delega proprio alle politiche di coesione sentiamo il Consigliere Gazzetti È stato un esito molto importante, interessante perché ha sancito ancora una volta la volontà di evidenziare in sede europea, in sede internazionale la necessità di dare protagonismo e voce ai territori, alle comunità ovviamente a partire nel nostro caso dalle regioni in quella assemblea che era la cinquantesima della CRPM è stato anche confermato nel ruolo di uno dei Vice Presidenti il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni che avrà una delega molto importante, quella alle politiche di coesione nella proposta di risoluzione che in seno alla Commissione è stata approvata all'unanimità vengono ripresi i temi della conferenza e vengono evidenziati i punti più significativi guardando anche alle questioni che interessano e riguardano la nostra realtà Che lavoro sta facendo per il resto della Commissione adesso? La Commissione è caratterizzata e di questo non posso che ringraziare tutte le commissarie e commissari a partire dai due Vice Presidenti Giovanni Galli e Anna Paris si sta caratterizzando per una capacità di analisi e di proposizione fortemente condivisa che ha visto anche la creazione di occasioni e di iniziative una su tutte, tutte le iniziative che sono correlate con le giornate dell'Europa e proprio in questi giorni stiamo seguendo con grande attenzione ma anche il lavoro della Commissione che dovrà individuare i premi di laurea intitolati a Davide Sassoli E chiudiamo con l'arte e con la mostra dedicata ai 30 anni di attività del pittore-poeta Paolo Gennaioli ospitata nello spazio espositivo di Palazzo del Pegaso 30 anni raccontati in questa rassegna come è nata l'idea di portarla anche per l'Italia? È nata appunto perché sono passati 30 anni da quando ho iniziato nel 1990 e poi la pandemia ha posticipato di un anno ed è cominciata con Napoli la curata Tessi Sembiante e poi l'abbiamo portata sempre nel 2021 ad Arezzo ed ora qui Quando lui mi ha contattata per metter su il suo trentennale abbiamo deciso insieme che non volevamo una mostra fine a se stessa in un luogo e lì finiva abbiamo pensato invece a una mostra itinerante che infatti è partita dalla mia città io sono napoletana e Paolo ha voluto venire e diciamo debuttare a Napoli proprio come palcoscenico perché Paolo, io nel catalogo lo definisco la rock star è molto vicino come spirito a Napoli e ai napoletani quindi si sentiva molto vicino allo spirito partenopeo e il comune di Napoli ha fatto suo il progetto di Paolo e quindi ha dato la Casina Pompeano per l'inaugurazione di questo trentennale che è partito da Napoli dopodiché siamo stati accolti ad Arezzo poi è andato a Milano insomma è stato un trentennale che ha girato un po' tutta Italia che era il nostro progetto era quello di portare l'arte di Paolo Giannaioli in giro per l'Italia e però importantissimo per noi e oggi siamo felicissimi a prodare a Firenze a pirare a casa siamo tornati a casa perché Paolo ha le sue radici fortissime qui nella città nella Toscana lui è cresciuto è nato in questi trent'anni sulle colline di Pieve di Bulcià e quindi siamo tornati a casa e l'ultimo step era proprio quello di essere a Firenze oggi qui e quindi siamo felicissimi di questo è tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio vi ringrazio per l'attenzione vi auguro una buona serata Grazie a tutti